Questo risultato elettorale vi soddisfa? Ora non è un risultato, no? Però insomma dalle urne uscite... Il ballottaggio vi soddisfa, sì, sì. Il ballottaggio sui soggetti del ballottaggio? Eh beh certo, altri non ce ne sono. In due c'è il ballottaggio, esatto. Però vi aspettavate questa configurazione? Ma io penso di sì. Io anche se la facessi Massimo in prima battuta, però già va bene così, insomma, no? La percentuale è di tutto rispetto. Di tutto rispetto, per non essere consciente, no? È comunque onorevole, anche se ho sentito commenti diversi. Adesso bisogna vedere il ballottaggio, poi dopo vinca il migliore, chiaramente. È giusto anche il ballottaggio, quindi secondo me vincerà, questo è ovvio, sempre il migliore. Però ovviamente Seri avrà più possibilità, quindi più chance di vincere, via. Gara dura, un bel ballottaggio, gara dura, sì, sicuramente. Tra chi i due contendenti? La Tarsi? Speriamo bene. Come l'è sembrata? Strano, no? Per la nostra città, una, come dire, un travaso di voti così, ma non aspettavo, forse pensavo qualcosa di più sul Movimento 5 Stelle. Ballottaggio scontato? Ma scontato non c'è mai niente, però diciamo che l'ipotesi che tutti i 5 Stelle votino la Tarsi e neanche forse gli basterebbe è un po' azzardata, diciamo, secondo me, perché almeno una parte o non ci va a votare, no? O potrebbe scegliere di votare anche Seri, quindi per vincere lei dovrebbe prendere voti da chi forse non è disposto a dargli. Ma sicuramente io mi aspettavo che si andasse al ballottaggio, probabilmente i 5 Stelle hanno perso molto terreno rispetto alle aspettative, del resto rispetta molto il trend nazionale. Il sindaco, secondo me, ha operato bene, è stato premiato non del tutto, però penso che le prossime cose sarà decisivo e che ritenerà a fare il sindaco per altri 5 anni. Commento sul risultato delle urne, se questo ballottaggio... Non sarei molto tranquillo se fossi in Seri, non sarei molto tranquillo, perché i ballottaggi, io mi ricordo le altre votazioni, quando vinse Agusti, era molto indietro e così, e poi al ballottaggio, secondo me può dipendere anche da come vanno avanti in questi primi giorni il governo nazionale. Quindi la Tarsi ha qualche chance, non è tutto deciso? Io penso di sì, penso di sì.